Allenamento anche per i 97 dell'ossiemare, gli allievi regionali d'eccellenza fascia B di Nessere Bellini. Stanno ottenendo grandi risultati che sono tra le prime posizioni nel loro girono. Si allenano qui al Lancomarzio, dopo la vittoria che hanno conquistato per 3-0 contro la Spessa Artiglia. Ecco appunto l'allenamento dei 97, con il mister Bellini che osserva e dà le sue indicazioni. Eccolo qui inquadrato il mister. Eccolo ma prima! Eccolo ma prima! Grazie a tutti